Grazie a tutti No, no, basta, basta Sushi buonissimo Era molto buono, proprio fatto bene Però il problema è che non ci è rimasto nessun zappur Era neutro E quindi? E quindi, piano piano, portati qua Quello che è rimasto l'abbiamo fritto Proprio impanata e fredda alla taraccia Sushi alla vasconnessa Fabio l'ha assaggiato Fabio l'ha assaggiato numero uno Andiamo dall'altra parte Vediamo Un po' Sushi Roba di spadellamento pesa bene Senti contemporaneamente Mentre portatevola qua e sapete il freezer Che c'è un'altra bottiglia di prosecchio C'è un'altra bottiglia di prosecchio La presero già o no? Prendi la tua, l'ho messa io Aspettare No, no, no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti